Quando mamma chiama, Picciotto risponde. Le parole sono del compianto presidente della Repubblica, Cossiga, che scherzava all'epoca con un noto conduttore televisivo. Le ha fatte sue, capogruppo di Avanti Sulmona, Fabio Pingue, che replica a suo collega in consiglio, Franco Di Rocco. Si tratta, ad onor del vero, di una sfida a colpi di comunicati stampa che entusiasma solo gli addetti ai lavori, e non tutti. Un battibecco che prosegue a distanza, quello che vede protagonista il consigliere comunale Fabio Pingue e l'area politica che fa riferimento alla consigliera regionale Udc Marianna Scoccia. Ieri era intervenuto il consigliere comunale Franco Di Rocco, collaboratore della Scoccia in Regione, stigmatizzando l'appello alla coerenza lanciato da Pingue e la consigliera. Oggi arriva la puntuale replica del cavoruppo di Avanti Sulmona. Coerenza, a mio sommesso avviso, è appartenenza ai fondamentali valori sociali, cui si stabilisce liberamente di aderire. Nel mio caso, sempre militato nell'area di centrosinistra e nelle recenti elezioni regionali, mi sono candidato in una lista a sostegno di Giovanni Lennini, ancorché il vento politico favorevole espirasse nella direzione opposta. Ma tu, evidentemente, confondi il termine coerenza con quello di opportunismo, che in una prassi politica, tutt'altro che incomiabile, degenera solitamente nel trasformismo tona Pingue, che in un altro passaggio, rivolgendosi amichevolmente al suo collega, scrive, caro Franco, tu insieme ad altri componi il nucleo di supporto di un consigliere regionale di maggioranza. La prima prerogativa di un consigliere regionale è la funzione legislativa, perciò attenderò fiducioso e trepidante una proposta di legge in merito alla possibilità di migliorare la capacità di spesa dei fondi PSR, così come aspetterò una proposta di legge sull'assegnazione dei pascoli. Inoltre, attenderò una proposta di legge sul ristoro dei danni procurati dai cinghiali iniziativa legislativa mirata ad evitare il taglio di mille chilometri sul trasporto pubblico che penalizzerà i pendolari di questo territorio. Il clima quindi si fa ancora più teso e Pingue avverte. È facile enunciare grandi temi e grandi parole quando poi queste sono vuote nei fatti e quando si concepisce la politica come un'eterna partita a subute o da vincere a tutti i costi per mere finalità elettorali, per l'acquisizione di poltrone e berre monerate. Ci misureremo in quel campo, quello dei fatti concreti che fino ad oggi, per essere buoni, sembrano pochini. Effettivamente concretezza e incisività è quello che si attendono gli elettori, da tutte le forze politiche e nessuna esclusa.